L'ecosistema dei partner per SAS è sempre più strategico ed importante, direi che è una collaborazione che era avanti da più di 30 anni e i nostri partner hanno contribuito in modo sostanziale alla crescita di SAS anno dopo anno. Direi che sono due le parole chiave in questa collaborazione anche attuale 2019, una è la competenza e una è la flessibilità. Allora la competenza praticamente noi cerchiamo dai nostri partner competenza di mercato, conoscenza di industria che va a complementare ovviamente la nostra competenza in ambito analitico da parte non solo della tecnologia ma soprattutto delle persone e degli specialisti. La competenza in ambito industria di mercato è fondamentale proprio perché va a completare quella che è la nostra proposizione ma oltre che è una competenza di industria di mercato è fondamentale anche la competenza di tecnologie, la conoscenza di altre tecnologie da parte dei nostri partner che ovviamente è più nota a loro che non a noi. Penso al mondo open source, la piattaforma VIA che si integra con il mondo open source è un naturale complemento della loro competenza in ambito di sistemi aperti. Devo dire che SAS ha lanciato un programma di formazione su piattaforma VIA per i nostri partner sempre più importante, sempre più significativa, abbiamo più di 300 corsi online, abbiamo più di 300 laboratori virtuali che hanno l'obiettivo quello di mettere i nostri partner nelle condizioni di sfruttare al meglio tutte le potenzialità della piattaforma tecnologica. Ma non dobbiamo dimenticarci anche la flessibilità. Ecco SAS dal nostro punto di vista sta lanciando dei progetti, dei programmi sempre più flessibili dal punto di vista commerciale di proposizione e questo significa ovviamente una proposizione di tipo business model, significa per esempio valorizzare asset che i nostri partner stanno rilasciando in ambito analitico che sono per noi sempre più importanti perché le permettono di fornire ed erogare dei servizi al mercato. E sotto questo punto di vista abbiamo anche lanciato il canale verso il growth market con un packaging di prodotti e di servizi sempre più aggressivo e sempre più in linea all'esigenza del mercato. Abbiamo a SAS Forum avuto più di 35 partner sponsor e ognuno di essi ha portato valore in termini di proposizione e in termini di soluzione. Abbiamo un team dedicato alleanze e canale a livello Italia e quindi il nostro invito è quello di contattarci, di collaborare sempre di più, di scambiarci le informazioni per far sì che questa collaborazione sia veramente vincente da ambo le parti.